Il perfetto world Il perfetto world Torna anche quest'estate a Sellano la Sagra della Fogliata e della Torta, giunta alla sua quattordicesima edizione. Da lunedì 8 a domenica 14 agosto, nel piccolo borgo della Valnerina, si potranno degustare le due bontà gastronomiche tipiche di questa terra, a cui è intitolata la festa, organizzata come ogni anno dalla Proloco di Sellano. La Fogliata è una torta salata, arrotolata su se stessa, formata da un sottile involucro di pasta sfoglia, che avvolge erbe selvatiche di campo, sia dolci che amare, come bietole, spinaci e cicoria, impastate con parmigiano, grattugiato e uova. La torta è invece un dolce composto dalla stessa pasta sfoglia della Fogliata, anch'essa arrotolata su se stessa, a forma di spirale, ma ripiena di frutta secca, come noci, nocciole e mandorle, con l'aggiunta di amaretti, biscotti tritati, cacao, cioccolato affondente e cannella. Quella della Sagra sarà un'occasione che permetterà ai visitatori di far conoscere i paesaggi della Valnerina, le sue tradizioni e la sua storia, oltre che i suoi prodotti tipici. Tutto questo grazie al profuso impegno dei volontari della Proloco, che ogni anno lavorano, instancabilmente, per la riuscita della festa. Per le sette giornate dell'evento, gli stand gastronomici apriranno alle 19 e offriranno, tra gli altri, anche piatti a base di cinghiale, agnello e lumache. Inoltre, dalle 21 e 30, spazio a musica e danze, con sette diverse orchestre, che offriranno ogni sera uno spettacolo diverso. Infine, tutte le sere, dalle 22 e 30, un DJ intratterrà i giovani, che potranno ballare e divertirsi nell'area a loro riservata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS